paolo paoli new iscriviti al canale mettete mi piace non mi piace condividete e commentate ciao a tutti amici allora ragazzi prima prima del video volevo annunciarmi che siamo quasi ai 200 iscritti e arriva un nuovo speciale e poi volevamo sapere che mi collo guido che saluto cordialmente ha detto ha fatto un video che mi ha sponsorizzato per ero universe quello che è e volevo sapere una cosa grazie mi collo guido di aver fatto il video anche se lo hai cancellato o no vediamo scopriamolo bene va bene e oggi vediamo la prima parte dei gelati san montana con anteprima gelati 2020 a partire con san montana i gelati italiana sempre con questo tupido colpo di merda che fa sempre una linguaggia è la prima parte che oggi parliamo della terza parte leggerà va bene mettiamo parte ok ok iniziamo a partire dai gelati per adulti quest'anno la san montana hanno fatto tantissimi gelati e io non ho mai provato il gelato la pesca copriamolo la prossima che comparta quanto bene va bene iniziamo con i passiamo ai coni con 5 stelle 5 stelle classici di san montana abbiamo un uovo a aria di toscana metti aria di pudra no pistacchio panna crocantino panna crocantino panna crocantino panna di cioccolato panna alla marina poi c'è poi c'è i gelati gringo con lima e poi c'è il gelato gringo con lime ghiacciolo buon vi piace molto che gli piace ghiacciolii con le ghiacciolici e i ghiacciolici mmm va bene poi abbiamo i grulini con i gusti miti crocantino ciciopelo ciciopelo ciaccolui e poi c'è la barretta protetica che si fa con il gelato poi abbiamo anche il gelato di gelati dell'armando amando i gelati dell'armando con i biscotti con i frutti in bosco con le mitiche Berry Bees mai provato lo proverò in futuro poi abbiamo con vaniglia cacau picciola peccato che i gelati di San Montana non c'è nel nostro paese poi abbiamo il settimo San Pietro il mio paese lo stecco Berry Bees frutti rossi non lo so poi abbiamo anche alla pesca lo stecco Berry Bees frutti rossi è la pesca vorrei provare anche la pesca che fruttiamo fruttiamo ha fatto fracola e pesca non sapevo che hanno fatto il gelato e la fracola fresca e poi hanno fatto un nuovo gusto di pace con kiwi l'avocado e questo esagerato l'alternatore avete visto che ho messo i rapanieri e i raffoni cazzo sembra assomigliare alla canzone dell'un lato di Peppa Pig quel che cantano mmmm poi abbiamo anche i classici si l'intrigo i vecchi gelati della San Montana degli anni 80 con copertina classica secchi gelato cioccolato e bianco blanco e stecco blanco e coglione biscotto con cinque stelle secco d'oro secco d'oro secco d'oro ora armolo grandulato sorbello e poi c'è l'acqua paura la marena la marena pavigliana amici che si inizia da pericchi pericchi e il gioccolato della doppia va bene ragazzi va bene siamo quasi 200 iscritti è tutto e grazie allora iscrivetevi al canale come sempre lasciatevi un bel like e commentate e noi ci vediamo al prossimo ciao ciao beh voglio provare gringo forse una novità che aiuta i ghiacciai ancora reti i bambini saranno orgogliosi di te o la gringo di SamoTam miam vediamo se la proviamo wow 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 ciao